Un team di esperti per predisporre lo schema di norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e le proposte di modifica per il rafforzamento dell'autonomia fiscale della Sicilia e quello che si è insediato ieri presso l'Assessorato regionale dell'economia costituito con decreto del Vice Presidente della Regione Gaetan Almao e coordinato dalla Dottoressa Benedetta Cannata, dirigente generale del Dipartimento delle Finanze del Credito dell'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana Tra gli altri componenti ci sono poi il Dottor Amerigo Cernigliaro già dirigente generale regionale, esperto in materia di rapporti finanziari Stato-Regione il Dottor Riccardo Compagnino, dottore commercialista e revisore contabile esperto di contabilità pubblica e poi ancora dall'Avvocato Angelo Cuva docente di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Palermo dall'Avvocato Dario Mordino, business analyst, esperto di diritto amministrativo e poi ancora dal Dottor Giovanni Sapienza, già dirigente generale regionale esperto in materia di bilancio e contabilità pubblica dal Dottor Santo Russo, dottore commercialista e revisore contabile dalla professoressa Caterina Ventimiglia, docente di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo e infine dal Dottor Mario Schumet del Dipartimento delle Finanze Regionali con funzione di segretario l'incarico verrà svolto dai soggetti esterni a titolo gratuito e non darà luogo ad alcun riconoscimento giuridico ed economico per lo svolgimento dei compiti attribuiti i componenti potranno avvolersi del supporto tecnico-amministrativo dell'ufficio di gabinetto, dell'assessore dell'economia e delle competente strutture del Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione Dipartimento Finanze e Credito i lavori saranno conclusi entro il 7 maggio 2018 178 2 3 2 3 3 4 5 8